Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni d'Otondo, da questo luogo prezioso per tutti i fedeli, per i frati, dal coro cosiddetto delle stimmate. Qui abbiamo proprio l'abito di Padre Pio, l'abito che indossava in quella giornata, in quel 20 settembre del 1918, quanto era regato al suo abito cappuccino Padre Pio. Il 22 gennaio del 1903 è una giornata significativa per la storia di Padre Pio, perché per la prima volta Padre Pio indossa il suo abito cappuccino, la sua vestizione religiosa. Padre Pio si trovava nel convento dei frati minori cappuccini di Morcone. Era giunto il 6 gennaio di quello stesso anno, aveva fatto 11 giorni circa di esercizi spirituali, esercizi intensi dove si accentuava la già rigida norma del silenzio e altre norme delle penitenze corpolari, incluso anche il mangiare in ginocchio nei giorni dispari e pane l'acqua il venerdì e vivere in convento a piedi nudi. Erano le regole, alcune regole del noviziato. Dopo aver fatto questi giorni di esercizi spirituali, il giovane Francesco era pronto per la sua vestizione insieme ad altri tre ragazzi. Infatti quello che troviamo scritto nell'archivio dei frati minori cappuccini è quanto descrive il padre guardiano, il padre maestro, fra Tommaso da Monte Sant'Angelo. Morcone 22 gennaio 1903, il chierico fra Pio da Pietrelcina che al secolo chiamavasi Francesco Forgione con l'obbedenza del molto reverendo padre Pio da Benevento e dietro il decreto del reverendissimo padre generale del 21 gennaio 1903 fu vestito dei panni di probazione da me, fra Tommaso da Monte Sant'Angelo, maestro dei novizi, in questo giorno 22 gennaio 1903 alle ore 9 antimeridiane in questa nostra chiesa di Morcone davanti all'altare maggiore, presenti i religiosi professi e novizi. Furono Giovanni di Carlo che poi divenne fra Anastasio Iugaroio, Vincenzo Masone che divenne fra Filippo da Pietrelcina, Salvatore Pranzitella che poi divenne fra Sebastiano da Campobasso e Francesco Forgione che da quel giorno si chiamò fra Pio da Pietrelcina. Infatti padre Tommaso da Monte Sant'Angelo scrive che lui recitò la formula Divesta il Signore dell'uomo nuovo che secondo Dio è creato nella giustizia e nella santità della verità e fra Tommaso gli fece indossare il saio. Poi prese il cappuccio Poni il Signore il cappuccio della salvezza sul suo capo per sconfiggere le insidie del demonio, le insidie diaboliche Sappiamo quanto era importante nei panni del giovane Francesco questa grande protezione Poi fu il momento del cingolo. Ti cinga il Signore del cingolo della purezza ed estingua dai tuoi lombi l'umore della libidine affinché rimanga in te la virtù della continenza e della castità. Quel giovane Francesco Forgione abbandonò anche il suo nome per prenderne un altro Pio, Pio da Pietrelcina Gli venne imposto dal padre maestro per indicazioni del padre provinciale Pio da Benevento Si trattava di un frate importante per quella provincia religiosa, per questa provincia religiosa perché era quel frate che venne posto da Dio affinché ricostituisse questa provincia dopo la soppressione e Pio da Benevento individuò quel giovane Francesco per consegnare a lui quel nome Pio e da quel giorno Francesco si chiamò Pio, Pio da Pietrelcina Pio daeremia Grazie.